buongiorno buongiorno con le stelle io sono monica amarillis e questa è la mia rubrica astrologica per prenotare una consulenza e il tuo oroscopo personalizzato scrivi a info chiocciola monica amarillis.com buongiorno a tutti e buona settimana siamo nella settimana che va dal 22 al 28 luglio 2024 e come prima cosa facciamo gli auguri ai leoni infatti proprio lunedì 22 alle 7 44 del mattino il sole entra nel leone quindi segna la fase di rivitalizzazione per tutti quelli che appartengono a questo segno cominciando ovviamente dalla prima decade ma decade che ne ha bisogno perché insomma sta già subendo l'opposizione di plutone quindi sicuramente la presenza del sole rappresenta proprio una sorta di pieno di energia che vi servirà tantissimo l'altra novità astrologica di questa settimana è mercurio che invece lascia il leone ed entra nel segno della vergine e lo fa il 26 venerdì alle 22 41 mercurio entra dunque in un segno che governa infatti la vergine è governata da mercurio e sicuramente porta anche un bel sollievo un bel sostegno alla vergine che ultimamente insomma ha subito qualche transito un po difficile ma resterà soprattutto nella prima decade mercurio della vergine perché poi il mese prossimo diventerà retrogrado tornerà indietro e rientrerà ancora nel leone in ogni caso mercurio nella vergine esalta le doti di questo segno e porta logica attenzione ai dettagli capacità di cogliere le piccole cose le minuzie l'intelligenza ovviamente è esaltata per chi ha mercurio in vergine vi ricordo che mercurio brilla particolarmente nei segni in cui è domiciliato in cui è esaltato ovvero gemelli vergine e scorpione l'unico rischio con questo mercurio e vergine di perdersi un po troppo nei dettagli e ricapitoliamo dunque dove si trovano i pianeti in questo momento cominciando dal pianeta più lento plutone che si trova a zero gradi dell'acquario e rimarrà in retrogrado rimarrà in questa posizione ancora per un po finché rientrerà in capricorno ma solo per un paio di mesi al ventinovesimo grado nettuno che pure è retrogrado è sempre sul ventinovesimo grado ma dei pesci urano è sul ventisesimo grado del toro quindi nella terza decade saturno si sposta dal diciannovesimo al diciottesimo grado dei pesci quindi è nella seconda decade giove si sposta dai 12 ai 13 gradi dei gemelli e anche giove è ormai nella seconda decade marte si sposta dai 0 ai 5 gradi dei gemelli venere dai 12 ai 21 dei pesci mercurio dai 26 gradi del leone appunto il grado 1 della vergine il sole da 0 a 6 gradi del leone e la luna la troviamo a inizio della settimana in acquario e attraverserà quindi pesci ariete e toro infatti la troviamo nel segno del toro domenica 28 luglio non ho molto altro da dirvi questa settimana per cui entriamo subito nel vivo delle delle previsioni per ogni segno se avete delle domande lasciatele nei commenti ma mi raccomando non chiedetemi dei vostri temi natali personali per quello eventualmente andate sul mio sito www.officinaastrale.com c'è una pagina dove rispondo a una domanda ovviamente una sola domanda perché se mi fate tutta la domanda le domande sul vostro tema natale insomma prenotate un consulto e così siete sarete soddisfatte da tutti i punti di vista però appunto c'è questa facoltà di porre una domanda sul proprio tema natale e potete farlo nel modulo apposito sul sito www.officinaastrale.com e dunque la riete il primo segno dello zodiaco riceve tutti i belli aspetti in questo momento ovviamente stiamo parlando del segno non delle persone ovvero alcuni di voi mi dicono ma io sono ariete ma non riesco a vedere nessun miglioramento bisogna vedere il tema natale personale individuale vedere cosa c'è che sta magari bloccando un'azione positiva sul sole potrebbe anche essere che in ariete abbiate solo il sole e tutti gli altri pianeti in altri segni e quindi sì il sole magari viene rivitalizzato viene il sole ricordo che è sempre il vostro nucleo fondamentale del vostro io quindi sicuramente ne riceve beneficio ma magari ci sono altre aree della vita che stanno andando un po' così così e dunque dicevo tutte le decadi sono coinvolte da bellissimi aspetti c'è il bel aspetto di venere di mercurio di giove e di plutone quindi un po' tutte le decadi ricevono buoni aspetti e chi è nato nei primi giorni del segno quello di plutone che vi fa riscoprire chi siete fondamentalmente nel vostro nucleo più profondo c'è il buon aspetto di marte sempre che si riguarda sempre la prima decade che rivitalizza da energia vitalità giove dopo essere passato dalla prima decade è ora nella seconda e appunto sta portando un po' di aria nuova a chi è nato nella seconda decade e anche un po' di fortuna anche venere si occupa della seconda decade perché appunto passa dai 12 ai 21 gradi quindi passa sostanzialmente alla fine della settimana nella terza decade e probabilmente può portare nuovi incontri o comunque la possibilità di trascorrere delle giornate dei momenti piacevoli con le persone amate con i familiari con gli amici e mercurio aiuta chi appartiene alla terza decade a essere particolarmente socievole aperto e in grado anche di cogliere le occasioni giuste le giornate sì della settimana sono lunedì e martedì e anche da quando la luna entra nel vostro segno cioè giovedì verso le 5 del pomeriggio fino a sabato e l'emotività rimane piuttosto positiva per tutta la settimana quindi non ci sono giornate no segnalate dalla luna in segni dissonanti quindi state pure tranquilli e trascorrete un'ottima settimana è il momento di seminare di portare avanti le vostre attività per il toro le due novità di questa settimana ovvero l'entrata del sole in leone e l'entrata di mercurio nella vergine sono diciamo una notizia buona una notizia cattiva e una buona quella cattiva perché il sole si pone in un aspetto dissonante al segno del toro però c'è anche da dire che gli effetti del sole sono molto rapidi durano al massimo un giorno e mezzo due quindi non c'è bisogno di cruciarsi troppo in compenso mercurio dalla terza decade del leone che quindi ha dato qualche problema di magari concentrazione a chi appartiene alla terza decade del toro entra in vergine e quindi aiuterà i nativi della prima decade ma ovviamente da dalla fine della settimana in poi inoltre abbiamo sempre la presenza di urano nel toro nella terza decade che aiuta i nativi a darsi una mossa a realizzare e concretizzare i loro progetti e in questo sono aiutati anche da saturno soprattutto chi appartiene alla fine della seconda decade saturno sicuramente in buon aspetto vi permette di essere molto realisti e di puntare anche su obiettivi lontani venere potrebbe creare qualche insoddisfazione qualche recriminazione a chi appartiene alla seconda decade e invece plutone a chi è nato all'inizio inizio del segno quindi nei primi due giorni del segno potrebbe portare anche qui diciamo materia di riflessione importante esistenziale direi un altro pianeta in buon aspetto è nettuno che agisce invece su chi è nato alla fine del segno portando fantasia e creatività e le giornate no della settimana potrebbero essere lunedì e martedì fino almeno a metà pomeriggio mentre invece saranno ottime le giornate che vanno da metà del pomeriggio di martedì appunto dal 23 fino a giovedì tardo pomeriggio e anche il weekend o meglio dal sabato sera verso le 19 e 30 fino a tutta domenica e oltre anche lunedì prossimo la luna sarà nel vostro segno quindi approfittatene la vostra intuizione sarà al massimo in quei giorni e probabilmente gli amici dei gemelli si stanno molto divertendo in questo periodo se la stanno godendo al massimo l'estate è sempre un periodo molto piacevole per loro ed è piacevole soprattutto perché in questo momento finalmente hanno un po di sostegni intanto marte giove sono nel segno rispettivamente nella prima e nella seconda decade stanno sicuramente rivitalizzando chi è nato appunto in queste decadi e poi anche il passaggio dei pianeti in leone è sicuramente un grosso sostegno e quindi sia il sole nella prima decada sia venere nella seconda sia mercurio nella terza portano nuove energie entusiasmi voglia di uscire di vedere le persone di aprirsi di più e di recuperare il proprio carattere allegro e anche un po spensierato che è così tipico dei gemelli inoltre c'è plutone in buon aspetto ha chienato nei primissimi giorni del segno insomma tutte queste belle posizioni queste belle configurazioni astrologiche sicuramente stanno facendo da contrappeso alle dissonanze di saturno nettuno che colpiscono chi è nato alla fine della seconda decade alla fine della terza quindi cari gemelli rimboccatevi le maniche mettete in campo tutte le vostre energie tutto il vostro entusiasmo datevi da fare o semplicemente divertitevi come sapete fare voi luna molto positiva lunedì fino a martedì verso le 15 e 30 attenzione dopo quel quell'orario entra nei pesci quindi posizione dissonante per voi potreste avere qualche momento di down energetico fino a giovedì alle 16 e 53 dopodiché entra in ariete e quindi da giovedì tardo pomeriggio fino a sabato sera avete la luna che vi manda il vento in poppa quindi procedete pure tranquillamente soprattutto le cose più importanti concentratele in queste giornate quindi giovedì tardo pomeriggio tutto venerdì e praticamente tutto sabato per il cancro si prolunga sostanzialmente la situazione che c'era già settimana scorsa infatti non ci sono dissonanze che riguardano il segno e ci sono degli aspetti positivi gli aspetti positivi sono saturno e nettuno che aiutano chi è nato alla fine della seconda e alla fine della terza decade rispettivamente con delle qualità molto diverse saturno porta concretezza porta capacità di dedizione di perseveranza mentre nettuno porta un po l'estro creativo inoltre anche urano è positivo la terza decade e porta una capacità di realizzazione di buttarsi nelle cose nuove che sarà molto importante e tutti gli altri pianeti sono sostanzialmente in posizioni neutre per cui non vi danno fastidio a meno che ovviamente nel vostro tema natale non abbiate dei pianeti appunto in segni che vengono colpiti così un po fastidiosamente da alcuni aspetti però il segno del cancro diciamo che è messo molto bene forse l'unica cosa è la prima decade che non riceve aspetti di sorte quindi potrebbe sentirsi un po diciamo annoiata ecco perché non ci sono cose importantissime che stanno succedendo ebbene la luna vi sarà amica soprattutto da martedì a metà pomeriggio fino a giovedì tardo pomeriggio entra poi in ariete quindi potrebbe darvi un po fastidio emotivamente potreste essere un po irritabili un po malmostosi come si dice qui a milano non so se nel resto d'italia si dice ugualmente così insomma potreste rispondere un po piccati alle piccole cose che magari non vogliono neanche essere delle provocazioni nei vostri confronti ma da sabato sera verso le 19.30 fino a tutta domenica e lunedì avrete la luna in un segno favorevole al vostro quindi ritroverete la serenità e il buon umore il leone si sta riprendendo in questo periodo grazie al passaggio dei pianeti veloci nel suo segno e quindi abbiamo anche il sole ho già fatto gli auguri a tutti i leoni all'inizio di questa puntata e c'è anche venere che sta percorrendo la seconda decade quindi porta sicuramente delle occasioni affettive interessanti c'è mercurio che sta attraversando la terza decade e poi uscirà dal segno e che comunque porta particolare lucidità quindi particolare concentrazione attenzione che è utile per esempio se state ancora lavorando se non siete in vacanza ma anche marte e giove sono positivi al vostro segno alla prima rispettivamente alla prima e alla seconda decade portano sia energia entusiasmo e anche un po di fortuna e quindi tutti questi aspetti positivi sicuramente controbilanciano gli aspetti negativi che vi colpiscono da tantissimo tempo e che mi hanno un pochino diciamo così esaurito sia fisicamente che moralmente infatti avete urano in dissonante alla terza decade e plutone invece opposto a chi è nato all'inizio del segno nei primi due giorni ebbene questi due aspetti sicuramente portano nervosismo insomma spesso non capite cosa vi sta succedendo e magari avete delle reazioni un po impulsive non proprio controllabili e cose che però a volte potrebbero ritorcersi contro di voi quindi cercate di rilassarvi e di rispondere con lucidità per esempio facendo vi evitare da mercurio questa settimana la luna non vi aiuta lunedì e martedì perché nel segno opposto quindi potrebbe amplificare certe situazioni e rendervi un po diciamo eccessivamente nervosi ma sarà in un segno positivo la riete da giovedì alle 16 53 quindi dalle 17 fino a sabato sera e quindi quelle sono le giornate più positive in cui raggruppare concentrare le cose più importanti che dovete fare questa settimana come dicevo all'inizio finalmente la vergine riceve un po il soccorso dei nostri ovvero di mercurio ma solo a partire da giovedì sera da giovedì notte quindi sostanzialmente dal venerdì in poi però è già qualcosa quindi mercurio è il vostro pianeta guida approfittatene per guardare lucidamente le situazioni analizzate senza perdervi troppo nei dettagli ovviamente però sicuramente vi può aiutare anche poi nelle settimane prossime e perché insomma ci sono tuttora aspetti fastidiosi oltre all'opposizione di saturno che prende di miracchio è nato alla fine della seconda decade e che porta pesantezza porta un pochino di depressione nettuno invece opposto a chi è nato alla fine del segno e questa questa configurazione porta confusione mancanza di direzione e poi c'è anche giove che è in dissonanza alla seconda decade e marte e dalla dall'inizio da questa settimana sostanzialmente dalla fine della settimana scorsa è dissonante alla prima decade e porta sicuramente nervosismo inquietudine voglia di sbottare insomma voglia di prendersela con qualcuno ma ahimè sarà meglio invece che cerchiate di stare più più controllati più tranquilli perché non è il momento proprio di puntare i piedi e urano vi aiuta come sempre è positivo alla terza decade vi aiutare a realizzare soprattutto a realizzare a mettere in campo i vostri progetti a portarli avanti poi molti di voi avranno sicuramente nel tema di nascita dei pianeti nel leone il segno contiguo e quindi può essere aiutato per esempio dal passaggio dei pianeti veloci in questo segno quindi sentirsi comunque un po' ritemprato dal punto di vista emotivo ebbene le giornate peggiori di questa settimana vanno da martedì verso le 4 del pomeriggio fino al giovedì verso le 5 perché la luna è nel segno opposto e solo da sabato sera al 19 30 circa quindi sabato sera domenica che ritrovate un po' di serenità di lucidità diciamo e la bilancia può contare su tantissimi aspetti positivi in questo periodo soprattutto dai pianeti veloci quindi sole venere mercurio che sono nel segno amico del leone abbiamo visto che il sole tocca la prima decade venere la seconda mercurio la terza quindi tutte le tre decadi sono coperte da aspetti positivi che guardano la rivitalizzazione e anche la socialità quindi la capacità di uscire un po' più da se stessi e andare incontro agli altri ma aiutano in questo anche il buon aspetto di giove che tocca la seconda decade ed ha anche diciamo la capacità di essere nel posto giusto al momento giusto e marte che invece dà una bella botta d'energia a chi appartiene alla prima decade che già sta ricevendo il buon aspetto di plutone perlomeno chi è nato nei primi due giorni attenzione che chi è nato alla fine del segno quindi proprio nell'ultimo giorno negli ultimi due giorni della bilancia potrebbe ancora risentire invece della dissonanza di plutone cioè potrebbe sentirsi un po' inquieto potrebbe sentire un po' come le cose insomma ancora non stanno girando per il verso giusto e insomma dovrà passare un po' di tempo prima di smaltire questo effetto ma sostanzialmente godete di tantissimi belli aspetti marte giove sole venere mercurio sono tutti dalla vostra parte e inoltre anche la luna questa settimana è un buon aspetto lunedì e martedì fino alle 16 del pomeriggio e ahimè però è attenzione alle giornate in cui è in opposizione in ariete e quindi da giovedì verso le 17 fino a sabato verso le 19 30 ecco quelle sono le giornate in cui potreste essere un po' più inquieti un po' più nervosi e in cui potrebbe insomma insinuarsi qualche pensiero un po' fastidioso e però non vi preoccupate per lo scorpione ahimè non preoccupate non preoccupatevi allora diciamo che già aveva si era sentito un po' sollevato lo scorpione dal fatto che fosse finita l'opposizione di marte e di giove insomma già non è poco sicuramente vi ha fatto sentire più leggeri e poi persistono i buoni aspetti di saturno nettuno che prendono di mira tra virgolette cioè coinvolgono chi è nato alla fine della seconda e alla fine della terza decade portando per esempio saturno porta stabilità coesione struttura capacità di portare avanti i propri obiettivi mentre nettuno porta quella genialità quella creatività quella fantasia che sicuramente può essere quello che fa la differenza soprattutto in certi progetti e quindi c'è sempre questa protezione da parte di saturno e nettuno e inoltre avete avuto questa bella notizia insomma sicuramente l'avete sentito questo alleggerimento però ahimè ci sono in questo momento i pianeti veloci nel segno del leone che è dissonante al vostro e quindi potreste sentirvi un po inquieti irrequieti perché questo possono portare i pianeti veloci il sole può portare un po' di stanchezza fisica morale un po' di abbattimento molto temporaneo mentre venere potrebbe portare fuori tutto quello che voi vorreste da una relazione ma non riuscite ad avere quindi insomma un po' di sentirvi non gratificati dalle relazioni che avete mentre mercurio vi può mettere fretta e vi può fare perdere di vista alcuni dettagli importanti ecco insomma cercate di rilassarvi se potete andate in vacanza e godetevela perché ancora siete un pochino sotto pressione le cose poi quando i pianeti questi pianeti veloci entreranno in vergine miglioreranno ulteriormente però insomma in questo momento siete ancora un po' un po' compressi quindi cercate di rilassarvi e le giornate più critiche questa settimana sono quelle di lunedì e martedì fino pomeriggio verso le 16 e anche il weekend o meglio dal sabato sera verso le 19 e 30 fino a tutta domenica mentre invece le giornate sì in cui concentrare le cose più importanti le attività insomma cui tenete di più per essere al top sono quelle che vanno da martedì verso le 15 e 30 fino a giovedì verso le 17 la bilancia per i sagittari pende ancora un po' verso diciamo i fattori più non diciamo negativi però insomma sulla pesantezza perché ci sono tantissime configurazioni un po' fastidiose per il sagittario l'opposizione di marte alla prima decade che porta un po' di voglia di litigare diciamo la verità l'opposizione di giove alla seconda decade che porta un po' di demoralizzazione la dissonanza di saturno sempre alla seconda decade ma alla fine della seconda decade che porta anche qui pesantezza demoral al ulteriore demoralizzazione e la quadratura ovvero la dissonanza di nettuno alla fine del segno quindi chi è nato alla fine del segno che può portare confusione e diciamo un'incapacità di muoversi di prendere decisioni quindi questi sono gli aspetti fastidiosi ma per fortuna ci sono sole venere mercurio che vengono in vostro aiuto e raddrizzano un po' queste situazioni e soprattutto vi danno l'energia fisica l'entusiasmo la voglia di fare di smuovere le situazioni e siccome ci vuole poco per il sagittario per tornare a essere ottimista insomma io penso che questi belli aspetti anche se di astri pianeti veloci siano sufficienti per darvi quella carica insomma a sagittario basta poco per riprendersi e la luna sarà vostra amica lunedì fino a martedì verso le 15 e 30 e anche quando è in ariete da giovedì verso le 17 fino a sabato alle 19 e 30 le giornate in cui invece fare attenzione perché la luna non è dalla vostra parte quindi potreste essere emotivamente troppo instabili sono quelle con la luna in pesci quindi da martedì alle 15 e 30 fino a giovedì alle 17 circa il capricorno ha recuperato posizioni da quando i pianeti veloci sono usciti dal cancro e quindi diciamo che non ha contrasti non ha nemici in un certo senso ha solo aspetti positivi e sono quelli diciamo di lunga durata che durano da ormai da tantissimo tempo ovvero saturno che è in buon aspetto a chi è nato alla fine della seconda decada e nettuno che è in buon aspetto a chi è nato alla fine della terza decade urano anche in buon aspetto alla terza decade e sono questi gli aspetti positivi e poi non ci sono aspetti negativi quindi diciamo che forse non ci sono tantissime novità in questo momento però potete sicuramente trascorrere una settimana piuttosto tranquilla a meno che ovviamente non abbiate pianeti alla nascita in segni tipo il sagittario o l'acquario soprattutto questo è possibile quando si ha il sole in un segno è molto probabile che venere e mercurio che seguono da presso da vicino il sole siano o nello stesso segno o nel segno precedente o in quello successivo quindi potreste avere effettivamente mercurio e o venere nel sagittario o nell'acquario è una cosa abbastanza comune e poi magari ci possono essere altri altri pianeti però questo per questo bisogna conoscere la propria carta del cielo in ogni caso sicuramente seconda e terza decade sono le più fortunate mentre la prima decade è un po diciamo senza non è colpita da aspetti di nessun tipo quindi può vivere tranquillamente una settimana tranquilla senza grandi eventi magari ma può andare bene anche così l'unica cosa del capricorno che essendo così quando è messo così bene e non ha contrasti potrebbe eccedere un po diciamo manifestare un po troppo le qualità del segno che sappiamo possono essere un po di durezza un po di rigidità e quindi fate attenzione a non eccedere in questi atteggiamenti e questa settimana abbiamo una luna positiva da martedì alle 15 30 fino a giovedì alle 17 e anche durante il weekend ovvero dal sabato alle 19 30 fino a tutta domenica la luna sarà nel toro segno amico invece attenzione le giornate da giovedì pomeriggio verso le 17 fino proprio a sabato alle 19 30 perché la luna sarà in ariete quindi dissonante e quindi lì ecco potrebbe essere che non siate proprio sul pezzo magari siete un pochino distratti o emotivamente un po più instabili l'acquario che ha sicuramente guadagnato posizioni da quando giove è entrato nei gemelli e anche da quando marte è entrato in questo segno perché sicuramente questi pianeti sono una ventata di energia di apertura per l'acquario però insomma in questo momento sta fronteggiando l'opposizione dei pianeti veloci dal leone sole da da lunedì venere e mercurio almeno fino a venerdì ebbene questo può portare qualche piccolo qualche piccola fluttuazione nell'umore o nell'energia ma sono cose di poco conto soprattutto la seconda decade potrebbe sentirsi sentimentalmente poco fortunata ma in realtà anche qua è magari una questione più di percezione che altro perché al contempo giove invece con il suo bell'aspetto vi potrebbe aprire nuove porte interessanti proprio anche dal punto di vista sentimentale ebbene rimane ovviamente la dissonanza di urano è ormai annosa alla terza decade quindi urano è anche il vostro pianeta governatore e potrebbe far venire la voglia proprio a chi appartiene alla terza decade di buttare all'aria un po po di situazioni per il resto come vi dicevo un po di stanchezza fisica un po di demoralizzazione ma molto momentanea un po di alti e bassi emotivi però tutto sommato ecco le cose sicuramente si stanno raddrizzando rispetto a a solo un po di tempo fa anche solo rispetto a un mese o due fa insomma le cose stanno veramente cambiando rotta e andando un po per il verso giusto e quindi non vi preoccupate se avete qualche alto e basso energetico o emotivo e la settimana tra l'altro inizia con la luna nel vostro segno quindi lunedì e martedì fino alle 16 circa alle 15 30 in realtà e quindi quelle giornate sono sicuramente importanti per il vostro intuito per ascoltare voi stessi e cosa vi dice appunto la vostra intuizione e poi ci sono anche le giornate con la luna in ariete che sono molto positive quindi che possono portare un umore intanto stabile buono positivo e anche qualche intuizione e da quindi giovedì alle 17 circa fino a sabato alle 19 30 ecco da questo momento poi la luna entra in toro che è un segno dissonante quindi nella giornata di domenica soprattutto potreste essere un po nervosi e ora che anche il sole esce dal cancro che è un vostro segno amico e quindi vi lascia un po orfani tra virgolette della sua energia potete contare soprattutto sui soliti pianeti che vi stanno appoggiando ormai da anni e sono saturno nel vostro segno alla fine della seconda decade e nettuno alla fine della terza decade e però saturno è sempre una presenza un po ingombrante quando è nel proprio segno perché si porta stabilità struttura capacità di realizzazione però vuol dire anche a volte tagliare dei rami secchi e a volte insomma autolimitarsi per poter realizzare i propri obiettivi e abbiamo anche il buon aspetto di urano sempre la terza decade e anche urano aiuta a realizzare i propri obiettivi ma ahimè da un po di tempo a questa parte abbiamo marte e giove dissonanti e quindi marte coinvolge la prima decade in una sorta di inquietudine stanchezza irritabilità nervosismo mentre giove può portare una sorta di inquietudine e demoralizzazione a chi è nato nella seconda decade e ahimè da giovedì sera quindi da venerdì sostanzialmente mercurio entra in vergine il segno opposto al vostro e potrebbe portare altrettanta inquietudine a chi è nato all'inizio del segno e magari anche un po di disattenzione e distrazione quindi cercate di rimanere presenti di rimanere radicati e di non partire con la testa con la fantasia per voli pindarici perché in questo momento non ve lo potete permettere soprattutto se appartenete alla prima o alla terza decade per fortuna vi aiuta la luna questa settimana che non sarà mai dissonante e quindi vi aiuta a tenere l'umore alto e soprattutto sarà nel vostro segno da martedì alle 15 30 circa fino a giovedì alle 17 e in un segno amico il toro da sabato alle 19 30 fino a tutta domenica e poi anche lunedì successivo e con questo abbiamo terminato anche questa settimana io vi auguro comunque di godervi questa settimana la vita qualsiasi circostanza anche quella un po più antipatica possiamo sempre trasformarla in qualcosa che prima di tutto ci insegna qualcosa di noi e del mondo e poi possiamo sempre trasformare ogni situazione quindi non vi demoralizzate mai cari amici e andiamo avanti e dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi all'email info chiocciola monica marillis.com